Allora, adesso vado sempre avanti con questo argomento qui, ecco, nel senso che vediamo altri passaggi importanti per capire il passaggio da politeismo, paganesimo, al monoteismo nel periodo del Medioevo, ecco, e per capire un po' come poi alla fin fine tutte queste pratiche pagane in realtà sono sopravvissute. Allora, a pagina 130, ecco, l'autrice, come abbiamo detto, Michela Zucca, ecco, inizia una serie di analisi anche da un punto di vista teologico che comunque, come dicevo, ecco, non sempre sono corrette, nel senso che lei analizza principalmente il sentire del popolo, ma non il sentire della teologia, per dire, quindi tante cose che in realtà il popolo ha affermato da un punto di vista teologico sono assurde. Ad esempio, qui, per esempio, ecco, introduce il discorso, ecco, del culto delle pietre, degli alberi, delle fonti, che era ben attestato anche tipo nella zona della Lunigiana, per dire, che effettivamente è stato difficile per la Chiesa sradicare, non ci sono mai riusciti al cento per cento. L'avevamo visto anche, ad esempio, nelle analisi di Laura Rangoni, eh? La Chiesa tuonò contro gli adoratori di alberi e lottò per estirpare il culto degli spiriti arborei, già fin dai primi secoli, con ogni mezzo. I preti cristiani si accanirono in maniera particolare sui boschi sacri, quella religione senza dei che credeva nelle forze della natura, senza insegni e senza edifici sacri, senza regole scritte da contestare teologicamente, non identificabile e quindi non perseguibile con sistemi eclatanti, roghi di libri senza imprimatur, distruzioni di idoli e di vitali d'oro, smantellamento di altari, distruzioni di templi, abbattimento di statue. Inafferrabile perché i suoi riti potevano essere celebrati anche dalle persone normali, che con qualsiasi scusa potevano recarsi nella foresta e li impauriva oltre ogni misura. Quando il cristianesimo cominciò a convertire le popolazioni pagane, uno dei primi compiti fu quello di proibire il culto che si rendeva ai boschi, per dimostrare la debolezza e l'impotenza degli spiriti, le piante sacre furono segate e bruciate. Allora questa è una cosa che in realtà pochissimi sanno, però è così, nel senso che i primi anni, i primi decenni, quando il cristianesimo cercava ovviamente di imporsi e di spandersi, in realtà ha fatto un vero e proprio genocidio degli alberi. Tra l'altro io questa cosa la prima volta che l'ho vista è stata in un libro di Jack Bross, Mitologia degli alberi, che se riesco a ritrovare ve lo leggerò anche in diretta, comunque l'ho fatto uscire per PDF, ecco, questo discorso del fatto dell'odio proprio per gli alberi che venivano bruciati e segati. Ad esempio è stato il caso di tante querce, di tante querce che venivano abbattute, per dire, o venivano bruciate, da anche uomini considerati santi o comunque dai vescovi, e tra l'altro c'erano delle gravi pene, ecco, che venivano commutate a chi fosse stato scoperto a fare qualcosa agli alberi, ad esempio ad appendere le cose, era una cosa tipica pagana appendere le cose agli alberi, quindi. I concili legiferarono fin da subito per sradicare le credenze pagane, già con il concilio in cartaginiense dell'anno 397, col concilio di Arles del 452 e col concilio di Oxerre del 583, le gerarchie ecclesiastiche condannarono la religione degli alberi, delle fontane e delle pietre, quelli di Turs nel 567 e di Nantes nel 568, si scagliarono contro chi, nascosto in fondo ai boschi, praticava culti sacrificali. Papa Gregorio Magno nel 591 ordinò di punire quei terracinesi che ancora adoravano le piante. Il re Lungobardo, Lut Prando, fece proprio le tesi riportate in un canone del concilio romano del 721, vietando nel 727, nello stesso capitolo di legge, le arti divinatori, gli incantesimi, il culto degli alberi e delle fonti, e così via per secoli. Poi ovviamente quando non ci sono riusciti a sradicare questa pratica, cosa hanno fatto? Hanno cominciato a metterci sopra i loro simulacri, e quindi tanti santini ad esempio delle madone degli alberi, delle madone del pozzo, per dire, si spiegano in quel modo lì. Nel senso che prima, dove lì adesso vedete la statua cattolica, in realtà lì prima c'era qualcos'altro, c'era probabilmente una divinità, ecco, una ninfa, piuttosto che comunque un altro spirito della foresta. Malgrado tanti sforzi da parte del clero cristiano cattolico, la persecuzione ottenne un certo successo soltanto nelle città e nei borghi sottoposti al controllo della Chiesa di Roma. Ma anche inquisitori e missionari avevano paura di inoltrarsi nel profondo del bosco, e c'è da supporre che per lunghi, lunghissimi secoli, molti degli alberi sacri siano sopravvissuti e che sotto la loro ombra protettiva si siano dati convegno quelli che rifiutavano l'omologazione cristiana, sebbene sia il nocio di Benevento, punto d'incontro di streghe per il sabba. Tra l'altro poi, in realtà il nocio di Benevento risaleva ancora prima all'epoca di Longobarda, nel senso che ancora prima lì dei Longobardi sì, praticamente c'era tutta una serie di rite dove venivano per esempio appesi delle pelli di animali, ecco i rami, perché molto probabilmente era comunque qualcosa legato alla fertilità. Per millenni i uomini e donne continuavano a vagabondare spostandosi fra insediamenti e quote differenziati, pellegrinaggi rituali, feste paesane e sabba notturni. La continuavano ad errare, sia negli alpini agli uomini selvatici, ai ribelli, gli spiriti pagani, divinità, ninf e fauni, procacciatori di fecondità, ricchezza e fortuna, fate, sacerdotesse, matriarche e tutti i personaggi della sessualità prorompente e desuberante. Poi, ecco poi l'autrice ovviamente introduce Pan, che come sapete era il dio pagano legato comunque a questo discorso delle selve, dei boschi, che poi ovviamente in epoca cristiana è stato denigrato, nel senso che ovviamente tutte le rappresentazioni che noi abbiamo, ecco le fantasie cristiane relative al discorso del male sono prese da Pan, da un punto di vista di estetica. Poi, ecco il nome Pan, che appunto significa tutto, l'universo intero, come ile, silva e materia, gli era stato assegnato dagli altri dei, non solo perché in certa misura ogni altro essere gli assomigliava per la sua avidità, ma anche perché impersonava l'energia genetica, riproduttiva e incontrollabile che anima il cuore e che è il tutto della vita, la sua stessa origine. Pan era particolarmente amato dalle donne, tanto che l'elaborazione della figura del demonio si era ricalcata sulla sua immagine, arricchita da un paio di ali di pipistrello, che dovevano renderlo ancora più terrificante. Poi ovviamente anche il resto degli dei, diciamo, pagani, ecco sempre dei monti, delle foreste, delle selve, ovviamente poi è stato denigrato, è stato demonizzato. Ecco, ad esempio, fra il clero, ecco una curiosità interessante, circolava voce che aures suntemoris, i boschi hanno orecchie, usando la parola nemus che indica il bosco e il nemeton celtico. Purtroppo per i preti cristiani gli antichi dei pagani erano degli irriducibili, la chiesa non era riuscita a esorcizzarli tutti. Alcuni li aveva convertiti e in certi casi perfino santificati, altri li aveva coperti con una patina cristiana che li rendeva irriconoscibili, ma ne restavano altri ancora che animavano la foresta con occhi e bocchioni presenti, voracci e curiosi, percorrendo quei maledetti sentieri in mezzo alle piante. Si correva il rischio di trovarsi improvvisamente faccia a faccia con qualcuno di loro, creature silvestri per natura. Grazie.